E' pronto Ancillotti a battere questo calcio di emulsione, poi parte De Feo, il tiro di De Feo, il palo pieno, subito, brivido. La formazione in maglia bianco-verde sta per il momento attaccando notevolmente, finisce a terra ruta e calcio di rigore in favore dell'Efece. Parte Gagliardo, c'è la parata di Cubitoso, sbaglio in rigore, Mario Gagliardo. E' allora in bimbo, recupera la sfera, fa giocare Memmolo, Memmolo si porta la palla sul sinistro, si è girato Memmolo, il tiro! Non c'è stato il tocco, ma pericolo per l'Efece Avellino, Gesualdo vicino al gol del vantaggio con Memmolo. Riprendere, arriva il fischio da parte del direttore di gara, finisce la prima frazione di gioco, Efece Avellino 0, Gesualdo 0. La traversa della porta difesa da Anni Castro e dunque il punteggio è restato di 0 a 0, inizia la seconda frazione di gioco. Bello fatto, sbaglia tutto, allora la parata per Scannella che prova il destro, Gubitoso, blocca come può, potente ma centrale, il tiro di Scannella. Ancora bello fatto però, fa buona guardia, alla fine però in bimbo perde la sfera, Gagliardo in bello stile su due, Gagliardo salta con l'avversario, prova il tiro, la palla finisce sul fondo. A scavalcare per Ruta, ancora Ruta, può controllare, salta un avversario Ruta, c'è nota dietro di lui, prova il rimorchio, la palla finisce a Pescatore, che calce del gol dell'Efece Avellino. Ha segnato Pescatore e ha portato in vantaggio la formazione di Sergio De Luca su assist di Andrew Luta, la sbloccata Pescatore. Gesualdo con Albino che prova a scavalcare verso Mebolo, Agillotti, tocca con la spalla, reclamano al fallo di mano i calciatori del Gesualdo. Finisce però per trascinarsi la sfera fuori, sarà rimessa laterale in favore del Gesualdo, attenzione perché Pescara ha colpito al petto Tucci che è rimasto al suolo, viene espulso Pescara, doppio giallo per lui e dunque arriva il cartellino rosso per il capitano del Gesualdo. Il mister, perché è stato espulso anche Alfonso Pugliese, probabilmente verrà espulso qualche calciatore della panchina del Gesualdo. Il pallone, parte Mebolo, il tiro a giro, attenzione traversa del Gesualdo, ancora la formazione ospite che ha provato con Fruggiero, che ha provato la conclusione, la sfera è finita sul fondo. La tiene a terra, nota molto bene l'aggancio, c'è vicino a lui Pescatore, nota, salta un avversario, ancora nota, entrare di rigore, nota di sinistro, finisce a terra e calcio di rigore in favore dell'FC Avellino, il rosso per Caloia. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara, De Feo è pronto contro lui Gubitoso, arriva il fischio, De Feo prende la rincorsa, arriva il tiro e c'è il gol del raddoppio dell'FC Avellino. A questo punto sancisce anche la vittoria della formazione di Sergio De Luca.